Nell'isola di Super Mario un piccolo bambino è appena nato da una famiglia di Yoshi E questo bambino ambisce nel diventare Super Mario in tutto e per tutto Appunto si andrà a scontrare proprio con le cerimonemico di Super Mario, ovvero Bowser Ma riuscirà a diventarlo? Qual è il tuo personaggio preferito tra Super Mario? Mi raccomando scrivilo qua sotto nei commenti Mamma, mamma, papà Il bagnetto, mamma, papà, il bagnetto Ma aspettate, ma io sono nato adesso, come faccio a parlare? Mamma, mi dai un motivo? Che schifo, mamma, non voglio entrare dentro la bocca Comunque, scusa, papà Ho capito, papà, ma non riuscite a darmi una motivazione per quale motivo sono così? Yoshi, Yoshi Che che è ruttato? Yoshi, Yoshi Va bene, ok, io me ne vado via Eh, vado a cercare un po' Oddio, ma cosa vedo? Wow, come vado a saltare le cose, pure io voglio provarci Come si fa? Wow, che figata Yoshi Ok, ma voglio andare lì sopra Posso andare lì sopra, mamma? Yoshi Papà No, 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 no Come no? No, 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 no Perché non posso andare lì sopra? No, 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 Yoshi Yoshi Che cosa vuol dire? Papà Yoshi, Yoshi Yoshi no scusa perché papà perché no che cacchio mamma io voglio andare lì sopra e non me lo permettete ho trovato un modo ok sono ritornato nel mondo normale dove sono andato sono entrato proprio dentro il tunnel il tubo rosso cacchio ok adesso ritorno indietro e magari magari ma mamma e papà sono ancora aspetta sono ancora lì mamma papà siete qua sono qua dove ero caduto prima oh papà papà eccoti cavolo dove fai la mamma comunque papà mi aiuti dai andiamo qua insieme questa volta però non entriamo nel tubo devi vedere cosa c'è lì sopra ok ci sono a te dovete entrare papà oggi sei riuscito ok sei qua sotto wow cosa c'è qua sopra non c'è nulla io pensavo che c'era qualche premio se salivi qua sopra papà invece non c'è niente non fa peccato oh fa peccato oh cos'è quella cosa mamma papà guardate cos'è cos'è e cos'è chi è è una stella voglio prenderla vieni vieni qua no sta scappando prendiamola ma sei caduto da qua grepo aspetta stella aspetta aia che male sono morto che ho messo a cuore arriva che è andata la stella eccola prendiamola stella gli dico a stella non andare così tanto lontana oh no cavolo è troppo va troppo lontano stella ti prego stella aveva finita ragazzi dai un po io guarda che posso stai cavoli tua scusate io qua sto a fare il mio giretto pomeridiano e questo mi segue tutto il tempo ma scusami ma io volevo prendere tu non sei una stella che si prende no ma scusa guarda il sequestro è illegale ah scusa non volevo allora non voglio prenderti scusa è che mi sembra di tipo un power up qualcosa del genere ma che power up ma che sai giocare scusa guarda questa è una vita reale io devo fare i miei giretti pomeridiani da stella ah giusto scusami scusami ciao stella vi vediamo addio ciao ok non volevo disturbare la stella uffa mi sono comportato male mamma lo ricordo si lo so papà lo so ma mi sono comportato male uffa è ritornata lì sopra andiamo a cercare se magari ci sono altri amici come la stella magari ritroviamo fungo adesso andiamo a vedere magari ci sono qualcosa buono guarda qua mamma e papà guardate ci sono i frutti bene guardi ci sono un sacco di biscotti buoni biscotti wow ok credevo male ok va bene va bene cos'è la mia missione io voglio un fungo magari c'è pure il fungo a parte la stella oh mio dio c'è Todd ciao Todd come stai tutto bene oh che fidata è proprio Todd oh vieni qua Todd ma perché urla sempre Todd è strano ok si ok Todd senti un attimo allora a me serve un fungo perché così dato che sono super mario divento altissimo dove posso trovare il funghi perché sei impaurito Todd no tranquillo tranquillo Todd io non volevo nel senso non voglio prendere voi voglio prendere i funghi tipo quelli no i funghi allucinoce i funghi quelli che tipo prendi per diventare grande come super mario cosa avevi pensato ma devo seguirti ok dai illustrami oh oh che bello wow Todd sta a tutti i posti che figata andiamo mamma e papà andiamo oh dio sta corriendo fortissimo attento al serpente Todd che schifo i serpenti ma che ci fanno i serpenti in questo mondo non capisco ok sono qua Todd ma siamo ritornati nel punto di prima Todd dove dovremmo andare scusami cosa non credo che funzioni così aspettate arrivo eh cavolo aspetta la mamma è morta la mamma è morta perché ma i ma i ma gli usci non possono nuotare come fa a nuotare la mamma no no mamma no è morta papà è morta papà vieni a prendere vieni a prendere papà con la tua con la tua moto uscita da Mario Kart ui bravo papà fai il giro speriamo che riesca a fare il giro ehi Todd comunque stiamo andando nella zona giusta ok va bene se lo dici tu oh cosa è stato è stato è visto un'esplosione ah no papà ha preso la moto perfetto vai papà si dai dobbiamo andare a prendere il fungo dove cavolo è andato ah eccolo ma come è fatto vabbè non lo so eccomi sono qua eccomi andiamo papà vai 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 papà wow che figata ok bene è qua dentro il fungo dov'è Todd ah ecco sei qua perfetto ok e dobbiamo andare qua dentro ok perché ho fatto Michael Jackson vabbè andiamo andiamo a vedere bello questo posto che strano dici che troviamo qualche fungo qua ok come dici qualche fungo qualche fungo non c'è nessuno che lavora qua scusatemi ma tu che cacchio ma chi siete ma che guarda che sei qua oh io sono qui dall'inizio ok ma siete dei clienti eh io sono sono mi chiamo Spreaser eh senti un attimo a me servo oh mio dio ma c'è proprio la faccia cadaverica non è che sei un vampiro scusatemi non mi spostate eh perfetto dai ah ah scusami eh no scusami cosa cercate ok senti un attimo a me servirebbe un fungo uno di quelli che mi fa diventare gigante oh i funghi aspetta fammi vedere che lei dovrà avere uno dici che lo troviamo facile oppure no oh cavoli mi sa che non me ne sono rimasti oh no che davvero eh no fammi controllare qui forse l'ultima speranza ok eh no oh no dove li trovi i funghi allora è difficile dovete salire sul vulcano sul vulcano si lo troverete lì oh va bene ok se ne trovate più di uno portatevi così divendo va bene ciao sul vulcano e non deve essere così tanto di bici andare sul vulcano almeno credo almeno credo dai andiamo venite qua toad venite venite qua yoshi non prendere la moto non serve dovete saltare qua sopra yoshi sbrigati ok perfetto andiamo 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 che cosa c'è ti aspetto ti aspetto eh ci siete perfetto andiamo finalmente ci siamo ok allora quindi sopra il vulcano sopra quel vulcano beh spero che non ci sia troppo da scalare cavolo già mi sento stanco ok va bene allora ehi toad dov'è toadette come vi siete lasciati toad davvero no mi dispiace beh guardi la tua positiva almeno non sei yoshi che gli è morta la la moglie c'è nel senso yoshi con tutto il rispetto con tutto scusa 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 yoshi è che ti è caduta in acqua e quindi deve respawnare ogni volta una complicazione però tranquillo io io ti sto dietro ti sto dietro yoshi tranquillo io ti aiuto ok sì yoshi sì ok va bene yoshi va bene va bene yoshi ok e adesso dovremmo sapere basta rossa il cacchio yoshi ti prego toad inizia a urlare che questo qua non solo è morta la moglie adesso inizia a rompere le scatole ok perfetto andiamo oddio fermi è lì è lì il fungo fermi tutti fermi tutti il fungo ok fermi non avvicinatevi troppo non avvicinatevi troppo altrimenti lo potremmo fare spaventare ok fermi 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 allora andiamoci così va bene io adesso mi avvicino tento di prenderlo se non ci riesco è una colpa è colpa mia va bene se non ci riesco però dovrei riuscirci ok ok non dovrebbe essere così tanto difficile in teoria quindi adesso ci provo va bene ok va bene 3 aia no no le metto a scappare stupido yoshi mannaggia a te oh no no sei andato in alto come lo prendiamo adesso mannaggia sempre più in alto se ne va se ti avviciniamo no 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 cacchio prendiamolo no 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 dove sta andando dove sta andando da quanto in qua possono volare i cavolo di funghi no fungo aspetta fungo vieni qua oh cacchio 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 aspettiamo che non cada nella lava se cade nella lava è un casino se cade nella lava è un casino cosa no nella lava no ti prego oddio oddio oh no 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 ti prego ti prego pregata Gesù pregata Gesù pregata Gesù pregata Gesù oh no bravo bravo Todd ok magari ci riusciamo magari ci riusciamo fermi tutti ok fermi 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 ti togliaci ok 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 eeeh bravo oh wow wow sono diventato super mario ce n'è senso ora aspetta un attimo che c'è un ciuccio ok perfetto ora ci sono wow sono super mario oddio guardate quando posso saltare oh che figata venite venite andiamo andiamo ok allora adesso quello che dobbiamo fare è scendere da questo monte ok dobbiamo scendere da questo monte ok dobbiamo scendere da questo monte ok ok guardate quanto è bello saltare e lo so Todd lo so lo so è bellissimo oddio la palla di fuoco oddio immaginate se avessi invece della palla di fuoco anche il super mario quello con il fiore potrei lanciare delle palle di fuoco ancora più veloci e ancora più forti ah mannaggia è troppo bello guardate sono delle palle di fuoco normalissime mentre quella con il mario di fiore riesce anche a far esplodere la zona circostante oh se magari mia mamma riuscisse a vedere quello che sono riuscito a fare papà cosa è morta nel fiume tranquillo papà magari no tranquillo papà magari tranquillo no tranquillo papà magari adesso la mamma la rivedremo da qualche altra parte mamma mamma cacchio mi dispiace Yoshi ma dovrei purtroppo questa è la vita a volte può essere anche brutta come vedi ma guarda il lato positivo Yoshi adesso quello che andremo a fare noi è andare a cercare la mamma va bene Yoshi così che possiamo ritrovarla Yoshi ok quindi andiamo qua chi siete va bene tranquillo Todd ci vediamo ciao wow ok papà magari deve essere suonata in un altro modo magari nel punto in cui prima eravamo andati ti ricordi magari è lì il suo letto ok andiamo wow dentro c'era lì la stella ancora brutta ok ti sai allora cosa cosa scegliamo questo qua ci sei papà questo ok bravo allora ok mamma sei là mamma ci sei mamma no no non credo che sia qua da qualche parte mamma esatto chiama Yoshi chiama magari ecco da qualche parte oh oh no Bowser porca miseria adesso ti vengo a prendere tranquillo Yoshi oh no ma lì c'è lasciala stare Bowser lasciala stare oh no oh no se cadere la lava è morta per sempre oh cavolo questo pale di fuoco sono molto più forti oh no tranquilla mamma tranquilla ti salverò no Bowser lasciala stare ah l'ho preso no ha fatto il terremoto ok ok sto per riuscire sto per riuscire tranquilli sto per riuscire ok manca dai dai no no ah sì sì ok è giunto il momento è giunto il momento iiiiadda iiiadda 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 esci attenta non cadere nella lava oh perfetto tutto bene quello che finisce bene allora ci siamo riusciti oh mio dio allora mamma sei felice se cadevi nella lava morivi per sempre ok oh cacchio finalmente ci siamo finalmente ci siamo e sono stra felice di questa cosa ok adesso ce ne andiamo via va bene e ora dato che sono super mario il mio prossimo obiettivo è quello di trovare tutti i vari gli utensili di rai di mario ovvero e devo trovare ho trovato il fungo ho trovato la stella però non l'ho ancora non l'ho ancora presa la stella ma vorrei diventare la stella dopo che divento la stella voglio prendere il fiore dopo che prendo il fiore voglio prendere che cosa posso prendere dopo che prendo il fiore dopo che prendo il fiore posso essere anche non lo so ah pure super mario quello quello si Yoshi con Yoshi giusto posso capaccare Yoshi ci posso fare un sacco di cose però adesso sapete cosa vado a dormire si veramente ho fatto un sacco di cose ci sono diventato pure grande così da bambino a grande veramente in tre secondi quindi veramente vado vado via vado un po' a riposare Yoshi ok papà calmati 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 papà Yoshi ok ok cosa dite se ci provo con quella tizia che stava lì dentro magari dite che Yoshi che ci riesco magari posso piacere a quella ragazza che sta lì dentro che mi ha dato il fungo Yoshi ok ci provo va bene ci vediamo mamma ci vediamo papà ok perfetto andiamoci a provare con quella ragazza speriamo che mi accetti eeeh wow ok eccola là ok perfetto oh oh ciao oh vedo che hai trovato il fungo hey pozzo offre un cocktail ciao ciao Grazie a tutti.